Grazie Presidente, ringraziamo innanzitutto il Signor Ministro per la relazione spincifica e puntuale che ci ha fornito dati e informazioni che si uniscono a quello che è stata un'impostazione di visione del sistema giustizia già espresso nelle linee programmatiche che abbiamo condiviso. La giustizia è un corso, un processo di rinnovamento importante, un processo che se correttamente condotto ci porterà dei risultati che ci si aspettava veramente da anni. E' ovvio che questo processo deve essere condotto tenendo lontani ideologie, forzature, questi estremismi politici che magari vengono espressi da alcuni che alla giustizia fanno male perché fanno male i diritti stessi dei cittadini. La giustizia non è un mero argomento per polverosi legulei, ma vive veramente di principi, principi veri, perché se c'è giustizia c'è la vera libertà. Siamo di fronte ad una svolta e abbiamo di fronte anche una grandissima occasione che dobbiamo sfruttare con la forza, con la forza delle istituzioni, con la forza di interpretare la giustizia come veramente un punto di equilibrio. Dobbiamo anche ragionare su alcuni termini affinché la stessa carta costituzionale sia aderente ai tempi, ai tempi odierni e alla loro complessità. Oggi in realtà è anche un po' facile arricchire i nostri interventi con un richiamo a, lo diciamolo pure, storico arresto di Messina Denaro. L'arresto non è frutto del caso, non è una coincidenza astrale, ma è un risultato di anni di infaticabile lavoro. E va riconosciuta pertanto la medaglia a magistrati, alle forze dell'ordine e alla stessa società che ha deciso di non riconoscere come sua parte la mala pianta della mafia. Un arresto che però ci pone un allarme su un sistema che deve essere ancora più fortemente combattuto, soprattutto di quegli profili della mafia sempre maggiormente insidiosi e subdoli. Subdoli perché la globalizzazione dei mercati, gli scambi, le informazioni, le potenzialità anche delle reti sono dei fenomeni che consentono magari anche alle organizzazioni mafiose di selezionare settori nuovi. E dobbiamo prevedere quindi tutti, ma proprio tutti, gli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata. E questa tutela veramente della legalità, della sicurezza, del libero mercato, dell'economia legale. Occorre potenziare gli strumenti anche a disposizione delle forze dell'ordine. E fra gli strumenti indispensabili vi sono certamente le insostituibili intercettazioni, sulle quali si sta tanto discutendo, ma non solo da ora, ma veramente da tempo, dimostrando così quanto sia un argomento complicato e articolato. E infatti correttamente la Commissione Giustizia sta effettuando queste indagini conoscitive, proprio al fine di esaminare lo stato della normativa e l'adeguatezza anche dello strumento alle esigenze vere. Sono emerse, come è stato ricordato da alcuni colleghi e dallo stesso Ministro, alcune situazioni preoccupanti sulla genuinità di alcuni risultati. Il confronto che avremo in Commissione sarà un confronto con tecnici esperti e potremo così veramente elaborare una soluzione per utilizzare uno strumento tanto importante quanto invasivo e a volte purtroppo deviato dai suoi fini nel momento in cui magari uno scorretto utilizzo si aggiunge ad una illegittima divulgazione e comunicazione di intercettazioni che danneggiano sia il diritto alla difesa che lo stesso processo di indagine. Vi sono poi tematiche, Signor Ministro, che riguardano il sistema della giustizia e anche di particolarità, complessità e delicatezza che sono emerse anche nella naturale evoluzione della nostra società che ha sofferto negli ultimi anni anche di un momento di crisi sociale. Un delicatissimo punto riguarda i fenomeni della criminalità giovanile, vi è un incremento delle presenze nei servizi residenziali minorili e di ragazzi. Sono ragazzi che provengono anche a contesti territoriali diversi, con forti anche portatori di gravi disagi e con esperienze di violenza. Dobbiamo veramente combattere la microcriminalità e tutte queste cosiddette baby gang con strumenti di prevenzione, con strumenti di cultura, con degli strumenti anche delle volte repressivi ovviamente nel rispetto della giovane età e dell'opportunità di recupero dei ragazzi. Un altro tema delicato, inoltre Signor Ministro, è rappresentato ancora dalla violenza di genere e anche le recenti notizie di cronaca purtroppo queste violenze stanno mettendo ancora vittime. Il Codice Rosso fornisce degli strumenti straordinari e ringraziamo ancora l'attuale Presidente della Commissione Giustizia Giulia Buongiorno per aver voluto ed elaborato questa importante legge. A quel tempo però dobbiamo anche pensare a creare le norme che facciano rispettare le norme ed è per questo che in Commissione Giustizia stiamo discutendo un disegno di legge sempre a prima firma Buongiorno affinché vi sia una possibilità di vigilare sulla prontezza di risposta delle istituzioni alle denunce. Denunce che se non sono ascoltate portano purtroppo ad esiti a volte drammatici. Bene, poi ricordare ancora, l'ha ricordato Signor Ministro, la complessa situazione delle attività degli amministratori locali con una forse necessario ripensamento delle fattispecie criminose che puniscono sì le condotte dannose per i cittadini e per la buona amministrazione ma non devono arrivare queste forme anche di repressione o anche di indagini stesse che arrivano quasi a paralizzare l'attività dell'amministrazione in un'ottica difensiva. Occorre poi avere la forza di rivedere la legge Severino per evitare magari delle sanzioni automatiche che arrivano a danno non solo della persona, della vita della persona ma la stessa anche efficienza dell'amministrazione. Se noi pensiamo che ad oggi una sentenza di primo grado può condurre alla decadenza di un amministratore, primo grado, quindi non può essere ancora considerata definitiva, sembra quasi una illogicità anche a livello costituzionale. Ci aspettiamo poi che vengano affrontati anche degli altri temi visto che abbiamo anche il coraggio e la forza di farlo, delle risoluzioni a un annoso tema, a un annoso dibattito sulla separazione delle carriere e di permettere così ai magistrati veramente di essere liberi ed indipendenti. Prendiamo poi invece veramente con grande soddisfazione apprendiamo questa volontà anche di provvedere un efficientamento di tutto il sistema della giustizia che non passa solo attraverso le modifiche dei diritti e inutile prevedere magari delle norme bellissime se poi non vi sono le strutture per attuarle ebbene infatti nella relazione viene dato atto di quali sono gli investimenti. Sono investimenti perché avere delle bellissime norme, un bellissimo processo e poi non avere personale amministrativo, non avere gli stessi magistrati, non avere addirittura i muri è come avere una bellissima auto fuori serie ma senza la benzina. Bene quindi tutte le risorse per l'edilizia giudiziaria ma soprattutto per gli incrementi di organici, di magistratura e di personale amministrativo che è indispensabile, fondamenta di tutte le attività di uno stesso tribunale. E se parliamo dello stesso tribunale, come correttamente anche lei l'aveva evidenziato anche in commissione, la gestione di un tribunale necessita forse sempre più conoscenze di impostazioni più dirigenziali che la conoscenza di codici, di normativi e di cavilli. Insomma non è sempre un ottimo giurista, può essere un ottimo presidente del tribunale. Bene comunque, signor Ministro, vedere che lei pone un punto anche sul processo civile perché il processo penale, i temi e le norme penali aiutano un po', sono più appetibili dal punto di vista mediatico è più facile spenderli, è difficile magari entusiasmare le folle con una servitù di passaggio, con un uso capione. Ma l'economia e giustizia si scontrano continuamente se non si permette la difesa dei diritti nei tempi congrui e con un sistema vero, efficiente della giustizia. Mi permetto poi infine di fare una nota che è una nota anche questa di soddisfazione per quanto riguarda la stessa avvocatura, stesso ruolo dell'avvocatura. La giustizia ha queste tre gambe di uno sgabello da una parte c'è il governo, ci sono la magistratura e c'è l'avvocatura. Lo sgabello non sta in piedi senza una di queste. Mi dispiacciono pertanto le allusioni fatte anche dal collega che mi ha preceduto anche in commissione dove si fanno delle illazioni su quelle che è l'attività dell'avvocato. L'avvocato competente, se messo nella condizione di esercitare la sua professione con dignità, diventa una vera e seria gamba della giustizia. E ne abbiamo bisogno, abbiamo bisogno tutti noi di lavorare tutti con una grandissima, con la dignità e la competenza. Alla fine quindi, signori, leggendo anche le risoluzioni non posso che non esprimere il voto favorevole da parte del gruppo della Lega sulla risoluzione da noi presentata. Grazie.